in particolar modo in questo pezzo di strada dove non ci sono parcheggi, dove non ci sono le tutele per le persone che vengono qui a lavorare affinché, come dire, possano accedere agli stabilimenti. Chiederemo anche alle aziende ulteriori investimenti e interventi affinché le mense e i parcheggi siano adeguati. Nelle aziende ci sono tanti lavoratori, sono anche cresciuti gli occupati e pertanto servono nuovi spazi e nuova sicurezza. Al sindaco chiederemo insomma quelli che saranno i progetti e i piani di intervento.